Allora buongiorno buongiorno non c'è un attimo di tregua ragazzi perché oggi parliamo subito del giorno prima di Fiorentina Roma si va verso lo stadio a Tempio Franchi di Firenze completamente esaurito nonostante ovviamente ci sia la curva ferrovia chiusa lo sappiamo per i lavori proprio deutici ovviamente a quello che poi sarà tutta la ristrutturazione e restyling del Franchi arriveranno tantissimi tifosi da Roma ma la cosa che ci preoccupa di più è che da Roma arriva la Roma cioè la squadra allenata da De Rossi che in questo momento sta attraversando un periodo di forma straordinario forte anche della grandissima e convincente vittoria contro il Brighton che praticamente gli permetterà di concentrarsi al massimo sulla sfida ovviamente di domani sera contro la Fiorentina per poi permettersi tra virgolette non dico di abbassare la guardia ma di arrivare al ritorno in Europa League forte di un 4-0 quindi ovviamente le attenzioni e soprattutto vincere aiuta a vincere in questo momento la Roma di De Rossi sembra aver trovato la cura ideale perché De Rossi praticamente da quando è seduto sulla panchina della Roma ha fatto solo una sconfitta quindi una roba impressionante in campionato ha raccolto tutti i punti possibili che si potevano raccogliere e si è prepotentemente riaffacciata sul quarto posto quindi dall'altra parte ovviamente c'è una Fiorentina che ha fatto fatica la Budapest contro il Maccabi Haifa italiano ha fatto i complimenti a Pierrot quindi attenzione se accendono i riflettori sul calcio mercato della Fiorentina quindi attenzione Pierrot diventerà il numero uno del mercato viola per quanto riguarda l'attacco quindi insomma puntiamo in grande no a parte gli scherzi ragazzi parliamo parliamo di Fiorentina Roma allora la Fiorentina ci arriva purtroppo con un dispensio di energie molto importante anche mentali perché comunque hai riacciuffato la partita e l'hai vinta al 94esimo con il classico gol di Antonin Barak che si conferma essere uomo di Conference League per il resto io ripeto non ho visto una squadra non ho visto una squadra ragazzi poi mi avete scritto in tanti in molti non siete d'accordo con me ci mancherebbe altro ragazzi il calcio è bello per quello nel senso è bello avere tante opinioni io sono sempre stato molto lineare su quello che dico sono sempre stato molto anche coerente con quello che dico non faccio tutto pro eee oppure faccio no sono molto coerente la partita in Conference League a me non è per niente piaciuto nell'atteggiamento posso aver apprezzato il fatto che la Fiorentina alla fine l'abbia reagguantata ma ricordiamoci che il Maccabi ha giocato con un uomo in meno nella fase finale nella fase dove il Maccabi aveva speso moltissime anche energie quindi voglio dire a me chi mi vuole raccontare che tutto è un sono così poi è ovvio che mi auguro che la Fiorentina domani sera scende in campo per vincere la partita perché se in Conference League ovviamente puoi non hai due risultati su tre paradossalmente quindi non parti sicuramente svantaggiato ma non puoi essere tranquilli soprattutto al ritorno perché non ci sarà Vincenzo Italiano non ci sarà Nicola Milenkovic quindi anche lì dovremo affrontare delle assenze assenze che dobbiamo affrontare anche proprio contro la Roma perché perché non c'è Lucas Beltram in questo momento il giocatore più in forma della Fiorentina che con questa nuova posizione sicuramente sta dando i suoi frutti al suo posto dovrebbe starci Jack Buonaventura prima di fare questo ragazzi ovviamente come sempre vi invito a iscrivervi a questo canale attivate la campanella Space Viola li trovate in descrizione con anche gli altri miei due link Instagram e Facebook ovviamente ragazzi condividete questo video con tutti i vostri amici e tifosi di viola e commentate voglio sapere la vostra formazione titolare che deve scendere domani in campo gioca a Terracciano in porta ovviamente graziato dalla blasfemia che ha pronunciato contro il Torino tra l'altro ieri Torino, grande Torino, ha fermato il Napoli sull'1-1 e giocherà a Terracciano in difesa dovrebbe giocare Ranieri con Milenkovic ovviamente per riportare potrebbe esserci anche spazio per Quarta qualora venga convocata ad oggi in questo momento ancora non ho idea delle convocazioni Quarta sarà sicuramente protagonista contro il Maccabi Haifa perché Milenkovic non ci sarà quindi Ranieri che ovviamente dopo il battibecco con Buonaventura se ne è chiacchierato tantissimo ragazzi sono situazioni di campo però secondo me sono anche frutto di una leadership che adesso sta passando piano piano i propri interpreti perché un Ranieri che risponde a Jack Buonaventura non mi rompere, pensa a giocare e roba del genere significa che c'è sicuramente un po' di battibecco nello spogliatoio e non si riconoscono più forse i leader di una volta in cui magari stavi zitto capivi quello che ti diceva e lo prendevi come oro invece adesso ci si risponde però sono situazioni di campo ecco non voglio tirar fuori troppe cose sugli esterni dovrebbe ancora una volta confermare a quanto pare Biragi e Kaiode con Dodò che verrà nuovamente convocato, Dodò non ha potuto giocare con il Maccabi uno perché il campo ovviamente di patate non lo permetteva avrebbe rischiato sicuramente una ricaduta sicuro però devo capire anche Parisi e Faraoni cosa stia succedendo a questi ragazzi perché non riesco a comprendere cosa li blocchi al non essere presi in considerazione soprattutto nelle partite di conference quindi se Biragi dovrebbe essere riconfermato nuovamente contro la Roma dall'altra parte ancora Kaiode nonostante tu abbia quattro terzini stai spompando i soli due tra l'altro Biragi è in netta difficoltà e Kaiode contro il Maccabi non ha fatto per niente bene anche se ho visto tantissimi sei ma io la sufficienza a Kaiode sinceramente non ce la vedo a parte non ce la vedo con nessuno contro il Maccabi però al di là di questo al centro campo Duncan e Arthur dovrebbero giocare con Jack Bonaventura al posto di Beltram i due esterni dovrebbero essere Nico González e Iconee con la punta là davanti Belotti che ovviamente avrà voglia di rivalza avrà voglia di segnare la sua ex squadra avrà voglia di dimostrare tutto quello che vuole questa deve essere la formazione che arriva contro la Roma della nostra Fiorentina dall'altra parte ovviamente ragazzi arriverà una Roma che si presenterà con Dibala con Lucca con Ixarawi, Pellegrini, Cristante insomma con tutta la compagnia Parades, Paredes insomma insomma arriverà una grande Roma allenata da un allenatore che ha delle idee a cui si ispira ovviamente anche a De Zerbi l'ha anche confessato Daniele De Rossi quindi insomma un tecnico che ha detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo nel calcio di ad oggi, di oggi bisogna correre è una cosa che io di Daniele De Rossi ho apprezzato tantissimo nella conferenza stampa post Brighton ha detto che nel calcio di oggi bisogna correre che il possesso palla no, bisogna correre, bisogna recuperare palla e andare ecco, è una cosa che mi piace moltissimo tra l'altro ormai insomma l'idea di De Rossi sulla panchina della Fiorentina è di stare a tre anni fa quindi non è neanche più diciamo un, credo che sia un tecnico come ha detto De Zerbi destinato ad allenare ovviamente speriamo che la Roma possa incappare nella partita storta e che la Fiorentina che se il suo ragionamento da provinciale funziona sarà una grande Fiorentina cioè nel senso se con le piccole facciamo fatica e poi con le grandi ci esaltiamo domani sera arriva una grande quindi mi aspetto una grande Fiorentina mi aspetto una Fiorentina che voglia in qualche modo bissare il risultato fatto con il Maccabi cioè una vittoria voluta e sofferta e agguantata con forse anche qualche favore arbitrale vista l'espulsione anche se non è stato un arbitro che ha fatto benissimo in Conference League però è una Fiorentina che dopo il pareggio col Torino dopo la vittoria con la Lazio ovviamente sta continuando a fare questo trittico di partite contro squadre forti contro squadre che puntano nel quarto posto con squadre anche attrezzate per giocare le competizioni europee e puntare alle prime cinque posizioni la Fiorentina deve tirar fuori quello che è la lagar quello che è la voglia, la cattiveria deve essere spronata dal voler battere qualcuno di più forte di lui e questo la Fiorentina lo fa io ho notato che la Fiorentina con le piccole parte sempre in maniera sbagliata come se quasi sottovalutasse l'avversario oppure non avesse quasi voglia di giocare invece quando arriva la grande squadra la Fiorentina si esalta, la Fiorentina porta uomini in area di rigore lotta sui palloni non lo so io mi auguro solo che ci sia ovviamente un Belotti che farà il reparto e dovrà fare il reparto perché dobbiamo sfruttare la voglia di un ex che vuol dimostrare Belotti ha esordito tra virgolette bene nella partita contro il Lecce anche se ha trovato quella traversa poi la partita si perse perché ovviamente noi non sappiamo gestire nulla noi ci perdiamo in un bicchier d'acqua però fece bene col Frosinone ma poi ci siamo resi conto che il Frosinone figlia a 7 gol da tutte le squadre poi ha avuto qualche difficoltà l'italiano ha risposto che era da tanto tempo che questo ragazzo non giocava tutte queste partite di fila quindi anche a livello di fisico anche a livello di esposizione atletica ovviamente ha avuto dei deficit penso che il fatto che abbia riposato un po' contro il Maccabi e che possa comunque avere quello stimolo in più contro la Roma sia un giocatore che secondo me domani potrebbe essere determinante credo che sarà la partita di Belotti io vi dico la verità me lo auguro perché ripeto a me Belotti piace tantissimo lavora tantissimo per la squadra quel lavoro per la squadra che l'italiano stesso ha esaltato con l'attaccante Perrault che non ha segnato ma dice un attaccante fisico ha fatto salire la squadra ha preso falli importanti ha fatto giocare la propria squadra ha lavorato per la squadra quindi l'ha esaltato così tanto ecco Belotti fa questo lavora molto per la squadra c'era anche da considerare il fatto che un Barak un Zola un Mandragola visto che sono andati in gol potrebbero anche sfruttare anche a partita in corso una sorta di momento positivo dovuto anche alla marcatura si sa vincere aiuta a vincere quando si fa gol e quando si vince il fattore mentale è molto più positivo quindi è ovvio che sulla carta se fosse un bookmaker vi direi che la Roma cioè le vuote sarebbero 1,90 alla Roma e 2,60 alla Fiorentina per modo di dire è normale è il pareggio dato a 3,15 però devo dire che la Fiorentina con le grandi si esalta poi magari fa la grande partita subisce un tiro e piglia go e questo sarebbe un po' la storia della Fiorentina però allo stesso tempo se riusciamo a mettere in campo un Nico González che deve ritrovarsi se riusciamo a mettere un Jack Buonaventura in condizione come a inizio campionato più vicino alla porta che la vede di più un giocatore determinante al centrocampo un Arthur che smista 3.000 palloni un Duncan che deve verticalizzare una difesa che deve saper difendere degli esterni in difesa che devono sapere arrivare sul fondo crossare ma non dimenticarsi di fare anche la fase difensiva ma soprattutto di Coné che deve decidere se diventare un calciatore cioè diventare un professionista oppure continuare a essere quello che non si sa che deve fare ma soprattutto un Belotti che deve sfruttare ogni singolo pallone che la Fiorentina metterà a sua disposizione mi auguro che ne metta veramente tanti questo è quanto ragazzi io vi aspetto ovviamente domani sera tornerò a casa sicché domani sera ci rivediamo in un ambiente più familiare sia a me che a voi quindi Fiorentina Roma domani sera alle 20.45 Mr. Viola attivissimo su Instagram ovviamente attivissimo anche dopo la partita ovviamente sui miei canali di YouTube e lunedì mattina c'è polemica su Radio Firenze Viola condotta da Dario anche lì sarò ospite intorno alle 9.15 9.20 il mio intervento in radio ragazzi come sempre forza Viola e buon sabato qui piove mi auguro invece a Firenze o dove siate voi splenda il sole anche se mi sembra che sia tornato l'inverno nonostante siamo a marzo quasi a metà marzo se vogliamo ragazzi come sempre forza Viola vi aspetto domani grazie a tutti